L'Ampedus era stata la meta del primo viaggio del suo pontificato l'8 luglio 2013. Questo luglio Papa Francesco tornerà nella diocesi di Agrigento guidata dal cardinale Francesco Montenegro a cui proprio Bergoglio ha imposto la berretta rossa nel concistoro del 14 febbraio 2015. Il Papa vuole stare vicino a chi è in prima linea nell'accoglienza dei migranti, soprattutto in questo momento in cui imperversano le critiche contro le ONG che li accolgono in Italia. Un tema da sempre al centro dell'agente del suo pontificato, una scelta quella di visitare Agrigento che risponde indirettamente anche allo scivolone dell'asservatorio romano che ha criticato in prima pagina il lavoro delle ONG. Una polemica scaturita dalle dichiarazioni del procuratore di Catania Carmelo Zuccaro che sta indagando così come avviene da parte di altre procure siciliano sui presunti contatti tra alcune ONG presenti nel Mediterraneo con proprie imbarcazioni e gruppi di scafisti. Il sospetto sollevato dal magistrato per ora rimane soltanto un'ipotesi è che le navi delle organizzazioni non governative vengano utilizzate come una sorta di taxi dai trafficanti di esseri umani, perfini tutt'altro che umanitari. Un'accusa alla quale il Papa ha risposto indirettamente nell'omelia della messa celebrata al Cairo. Dio gradisce solo la fede professata con la vita, perché l'unico estremismo ammesso per i credenti è quello della carità. Papa Francesco nei giorni scorsi ha ricevuto in dono una Bibbia ripescata dal barcone della tragedia del 3 ottobre 2013 a largo di Lampedusa, uno dei tanti, ma divenuto simbolo dei viaggi della speranza naufragati. È in un incontro con i profughi, queste sono state le parole del Pontefice. Questa generosità del sud di Lampedusa, della Sicilia, possa contagiare tutti noi. Siamo nella civiltà che non fa figli, ma anche chiudiamo la porta ai migranti. Questo si chiama suicidio. Siamo nella civiltà che non fa figli, ma anche chiudiamo la porta ai migranti. Grazie. Grazie.